Quattro giornate dunque al termine del giorno di andata, sabato con l'Avellino, poi ci sarà la trasferta di Perugia, il 24 in casa con il Varese e il 28 a Livorno. Un poker di gare dunque che delineeranno il cammino dei bianco-azzurri per questa stagione. Ma non guardiamo molto avanti, soltanto fra due giorni all'Adriatico-Gornacchi arriverà l'Avellino, squadra ostica, un pescara che ha bisogno dunque di continuità. La parola d'ordine però è quella di non lasciarsi ingannare dalle voci di mercato, l'Empoli su Memusciai, l'Avellino su Maniero, il Cesena su Melchiore, tutte voci che non devono però distrare i bianco-azzurri. Fa bene Baroni a dichiarare che questa squadra non deve essere toccata nel prossimo mercato, il pescara non è la croce rossa, giustamente ha detto Baroni. Una squadra che guarisce i giocatori e poi non li mette in vendita, lui conta su tutti i suoi elementi, su quelli più anziani e anche sui più giovani che hanno sicuramente brillato nell'ultima partita di Vercelli. Per la gara contro l'Avellino si potrà recuperare Zampano ma sembra che il tecnico voglia dare ancora fiducia, giustamente, al giovanissimo Vetturini che è un po' la stella ora del settore giovanile. Questo settore è tanto chiacchierato negli anni passati, stanno arrivando i frutti del lavoro degli ultimi anni, oltre a Vetturini ci sono ovviamente i Di Rocco, i Torreira, i Da Silva, i Marzucco che sono saliti nella prima squadra. Ed è un progetto che andrà avanti anche nei prossimi anni quando questa società conterà molto sui prodotti locali. Però ora pensiamo all'Avellino, battere i Lupi non sarà in presa facile ma servono soprattutto i tre punti per dare continuità al poker di Vercelli.